Miglior realizzatore europeo con 70 reti come Inzaghi, lui conta anche la quattro intercontinentale, sarebbe la settatura, ma attenzione a Milito, primo lancio per lui, Noyer di testa, incredibile! Stankovic da lontano, per l'oleto! L'oleto! Mai visto! Mai visto che ha così! Incredibile! Incredibile! Non è il primo per lui, ma questo è veramente fantastico! E' un gol unico questo, quasi dalla linea di metà campo, si è piegato al volo Stankovic e ha guardato e mirato la porta avversaria, Noyer che aveva fatto il libero aggiunto, era altissimo fuori dall'aria di rigore, qui rivediamo tutto, esce ad anticipare Milito e qui Stankovic incredibile, quasi sulla linea di metà campo, riesce ad avere precisione e a dosare benissimo, piegandosi alla perfezione! Questa cineteca, inutile aggiungere commenti...